Uniti per il Sarno, se non ora, quando? È il tema del flash mob promosso da Acquamunda sabato 23 maggio a Nocera Inferiore in piazza Diaz. L'appuntamento è per le ore 19.30, ben distanziati e con mascherina, per sollecitare una presa di posizione collettiva per il disinquinamento del bacino idrografico tra i più inquinati d'Europa. Le sentinelle dell'ambiente resteranno in piedi in silenzio per dieci minuti davanti a Palazzo di Città. Allo scadere del tempo sarà urlato per tre volte consecutive, uniti per il Sarno, se non ora, quando? I partecipanti al flash mob indosseranno tutti una maglietta bianca per indicare la desiderata limpidezza per il fiume e quella che dovrebbe caratterizzare le istituzioni. Il flash mob si terrà ogni sabato a partire dal 23 maggio. Invitiamo i cittadini di tutti i comuni e le associazioni interessati, si legge nel manifesto che promuove l'iniziativa di Nocearo Inferiore, a organizzare manifestazioni di questo genere nel proprio comune perché solo uniti possiamo farcela. Acquamunda, uniti per il Sarno, è un comitato formato da cittadini il cui scopo è quello di partecipare attivamente per la risoluzione definitiva dell'inquinamento del fiume Sarno, attraverso azioni di divulgazione di contenuti, manifestazioni, organizzazioni di campagne di sensibilizzazione, ma anche attraverso la messa a disposizione delle competenze tecniche e scientifiche dei componenti del comitato ad altri gruppi e associazioni, nonché alle istituzioni. In un clima, si legge nella loro presentazione, di collaborazione e dialogo continuo. Il comitato è nato all'indomani del rallentamento del lockdown, alla luce dei miglioramenti della qualità del Sarno e dei suoi affluenti registrati durante la quarantena. Riscontri che hanno dimostrato come un Sarno disinquinato sia possibile.